Un villino confiscato alla mafia nella zona di Fidene, stato consegnato ai servizi sociali di Roma, sarà utilizzato per persone con disabilità. Andrea Marini. Servirà inizialmente come percorso di avvicinamento ad una vita indipendente fuori dalla famiglia per persone disabili, per poi assicurare, dopo circa un anno, una residenza autonoma, indipendente, ed offrire una vita dignitosa a gruppi di 5 e 2 persone. Così un villino confiscato alla mafia nella periferia romana di Fidene acquista una nuova vita grazie al progetto Durante e dopo di noi, legge 112-2016, che si propone di favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità. Richiesto dal terzo municipio di Roma Capitale all'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, il villino indipendente, fornito anche di un giardino dove è possibile consumare i pasti all'aperto per favorire l'integrazione, è stato ristrutturato grazie alla collaborazione dell'Asilo Savoia, ente pubblico non economico fondato nel 1887 dal governo Crispi e dal re Umberto I per assistere l'infanzia abbandonata e sottrarla alla miseria. Consegniamo oggi alla collettività questa ventitresima struttura per le persone con disabilità. In base alla legge sul dopo di noi, siamo riusciti a creare per la prima volta una rete cittadina in grado di fare fronte alle esigenze delle persone con disabilità ed assicurare una continuità ai familiari. In una prima fase, il gruppo allargato di persone che hanno aderito al progetto sperimenteranno una vita autonoma di urna e nei weekend fuori dalla famiglia prima che i due appartamenti vengano assegnati ad altrettanti gruppi specifici di disabili.